Scusate, ho l'ombrello. Si leva per il cuore, grazie, finite. Questa macchina si è. Ecco, la macchina è arrivata. Ecco, ecco, ecco. Ecco. Puoi passare qui sotto, guarda, che sta tutto lo spazio. Te lo tengo fermo, eh? Ma voi te li scordi. E' forse un po' ecco, lui sento tanto. Segnato profondamente la nostra città e la nostra comunità. L'ottantesimo anniversario dei rastrellamenti del tetto di Roma. Lasciando l'indelebile impronta di orrore e dolore nella nostra città. Caro Presidente, cari amici, pensavamo di poterle legare solo alla memoria immagini tanto aberranti, quanto tragiche, che oggi invece tornano davanti ai nostri occhi. Pensavamo che nessuno avrebbe mai cosato entrare nelle nostre case, uccidere i nostri figli, dividere le famiglie, portarli a bambini, donne, anziani solo per gli ebrei. L'attacco agli ebrei in quanto d'altro, perché di questo si è trattato, è un attacco ai fondamenti della società civile e della pace sociale.